Allora, benvenuti a Cleto, noi ci troviamo in questo momento a Savuto di Cleto, che fa parte comunque sempre di Cleto. Questo è uno dei due borghi con i due castelli, perché come sapete l'avete visto sia nei cartelli, ma anche inquadrando i vari QR code che sono sparsi per i vari punti turistici, proprio a Cleto potete sapere dell'esistenza di questi due borghi, dei due castelli. Noi oggi andremo a visitare all'inizio il castello Angioino, quello militare, che è quello proprio ubicato qua a Savuto. Savuto vi trovate proprio in un posto che sarebbe Piazza Mendola Mai, in origine era Porta d'Ucarro, c'è la Porta del Carro, perché come sapete ogni luogo che aveva un castello o comunque un borgo medievale aveva delle porte a protezione del borgo stesso. Cleto ne ha quattro, qua ce n'erano due, c'è Porta d'Ucarro, che sarebbe il posto di Piazza Mendola dove vi trovate adesso, e ce n'è un'altra che invece è verso la chiesa, più sotto che è Porta Sottana, la porta insomma di sotto che vedono, ma i termini sono più o meno simili nelle zone, cambia un pochino l'idioma. È uno dei due parti di borgo, insomma, dove potete ammirare non soltanto la vallata del Savuto, l'ammirerete soprattutto dal castello, perché il castello affaccia proprio sul fiume Savuto, su San Mango, sotto c'è la chiesa dove c'è la famosa Madonna della Mazzarella, poi magari vi spiegherò meglio, e la prima parte appunto parte proprio da Savuto che è uno dei due Borghi. Quindi buon proseguimento di escursione, io vi consiglio di farvi da voi un applauso perché insomma siete arrivate qua a Cleto, nella nostra Cleto, e noi siamo contenti sia, ripeto, come personalmente, come Riccardo, come LibriTV, come Officine Editoriale di Cleto, ma sicuramente anche come amministrazione comunale, perché è bello quando un comune va a fare un piccolo gemellaggio e quindi si conoscono le tradizioni, i luoghi e le persone che comunque le tramandano queste tradizioni. Quindi iniziamo questa piccola escursione del Borgo di Savuto. Come vi dicevo prima, l'amministrazione comunale ha fatto questa bella iniziativa che è quella di porre all'inizio di ogni luogo di interesse un QR code, quindi chi viene per esempio qua e non ha la possibilità di avere una guida può inquadrare e visionare quello che ricollega un sito, sia le immagini del sito stesso che la descrizione del sito stesso. Quindi questo caso noi ci troviamo, come vi dicevo prima, alla rampa di accesso, ma ovviamente non era così come la vedete adesso, perché la rampa di accesso era fatta di sangue. Alla vostra, alla mia spalle, è il torri unaragonese, sempre comunque di forma circolare, questo qua, che era utilizzato ovviamente per ragioni strategiche e militari, ve lo stavo spiegando prima, ma già comunque qua dal muretto voi potete notare la vista, perché ovviamente gli invasori arrivavano dal mare e venendo dal mare, quale migliore posizione strategica e geografica di porre qui un castello e quindi un torrione? Allora, prima di tutto grazie a Marco Marchese, a Riccardo Cristiano, al vice sindaco che ci hanno accolto oggi qui a Cleto. In questo momento veramente siamo al Savuto, siamo al castello del Savuto, tra poco saliremo proprio nel centro storico di Cleto. Oggi siamo venute qui a invadere Cleto, come hanno scritto sulla locandina. Abbiamo concordato questa iniziativa a luglio in occasione della presentazione del libro di Riccardo Cristiano, che è un libro veramente che ci ha colpito e che abbiamo presentato veramente con compassione. Riccardo Cristiano è componente della giuria del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore. Con Marco e Riccardo abbiamo concordato di venire qui, poi dopo il premio letterario, a leggere qualche brano dei libri che hanno vinto. Siamo qui e leggeremo due libri. Quest'anno abbiamo avuto un exequo al terzo posto. Quindi qui nel Savuto leggeremo i due libri arrivati terzi, poi quando saliremo all'altro castello leggeremo qualche brano della restanza di Vito Teti che è arrivato primo e un brano, un'idea che ci univa di Pietro Criaco che è arrivato secondo. Leggerà i colori della vita di Bacchitaranieri, Marie-Lise Succurro, dell'Associazione Donne e Diritti. Buonasera a tutti. L'amore non è mai in ritardo, si prende solo il suo tempo. I ricordi rimangono sempre dove li abbiamo lasciati, nella stessa frazione di mondo. All'ora di pranzo suonarono alla porta e Valeria si alzò per andare a aprire. Era domenica e lui stava allegramente festeggiando insieme alla sua nuova famiglia l'imminente matrimonio di mia Andrea. Era ormai fine settembre e l'aria aveva iniziato a rinfrescar. Si trovò di fronte una donna, ben vestita ma dal rimel sbavato, come conseguenza di un pianto appena fatto. Buongiorno, mi scuso se disturbo, cercavo sua moglie. Buongiorno a lei, prego si accomodi. No, la ringrazio, aspetto qui. Se fossi così gentile da chiamarla, per favore, non le rubo molto tempo. Va bene, come preferisci, vado a chiamarla. La ringrazio. Valerio lasciò la porta aperta e andò in cucina a chiamare Sonia. Amore, c'è una signora alla porta che chiede di te. Non è voluta entrare. Ci vado subito. Tu intanto finisci di apparecchiare e pensa ai bambina. Mia, scola tu la pasta, per favore. Sì, mamma, sei tranquilla. Sonia raggiunse l'ingresso e si trovò di fronte a Margherita. Buongiorno, signora. Buongiorno, mi scusi, si sono piombate così all'improvvise di domenica all'ora di pranzo, ma ho aspettato dieci lunghi anni in questo momento. Sonia capì subito che quella che aveva di fronte era la mamma del suo Roberto. Ebbe un sussulto, ma dopo un respiro profondo, trovo le parole che erano rimaste a mezz'aria. Salve, Margò. Finalmente riesco a dare un volta la sagoma che da tanto tempo vedevo correre via dietro quel cancello. Aspettavo da tempo una sua visita. Sapeva che prima o poi sarebbe venuta. Quello che non capisco è perché proprio ora. No, dico perché ora che finalmente Roberto è sereno. Margherita era appoggiata all'ante della porta per evitare di svenire. Lei sa già chi sono. Ha ragione, ma devo spiegarle. Lei mi deve ascoltare. Non potrà mai essere totalmente sereno senza una parte di lui, che sono io. Questa non è la sede adatto per parlarne. Tenga, questo è il mio indirizzo. L'aspetto domani alle nove nel mio ufficio. Sarò lieto di ascoltarlo. Proprio in quel momento, dopo essere andato in bagno, Roberto era passato da lì per sollecitare la sua nuova mamma ad andare a mangiare. Sonia, vieni, la passe sul tavolo e... Quando vide quella donna ebbe paure. Diventò palido e iniziò a sudare freddo. Le sue labbre diventarono viola. E dovete subito intervenire, Sonia, prima che il piccolo si scolassasse. Gioia, sembra che tu abbia visto un fantasma. Va tutto bene, stai tranquillo. E lo baciò sulla fronte. Margherita si sentì morire dentro. Era da un passo del suo bambino e invece di poterlo stringere, si limitò con un filo di voce a andare via frettolosamente. Bene, a domani. Tolgo il disturbo. Sonia la vide correre via mentre tatenevi i singhiozzi. Ma non ebbe il tempo di occuparsene, preoccupata come era a stare vicino a Roberto. Tenendola per le spalle, lo portò in cucino. Lo fece sedere e lo guardò in attesa che lui trovasse la forza per parlare. Sonia, io ho riconosciuto quella signora, quella che da tanto tempo veniva a spiarmi fuori dal cancello. Ti prego, dimmi chi è e cosa vuole. Tesoro, tu mi devi promettere di stare tranquilla. Domattina la incontro e sento cosa vuol dirmi. Ti prometto che saprai tutto com'è giusto che sia. Quella figura aveva costituito tutte le sue insicurezze. Ho avuto un tonfo al cuore appena l'ho visto. Credo sia mia madre, anche se mi hanno fatto credere che fosse morta. Così mi avevano detto. L'ho pianta per settimana e ho imparato a stare senza. Poi sei arrivata tu che hai riportato il colore nella mia vita. Da quando ti conosco sei diventato il mio portosicuro. Poi la vedevo passare da lì e guardarmi e ho sempre immaginato che fosse una parente. Non lei, non mia madre. Ora che una mamma io l'ho appena trovata. Lei era la luce che illuminava il suo buglio. Sonia dal canto suo sentiva la responsabilità emotiva verso qualcun altro. Non sono i genitori a fare i figli, ma i figli a fare i genitori. Sonia sentì addosso il peso di tutto il mondo da qui lo avrebbe dovuto proteggere. l'abbracciò senza riuscire a aggiungere altro. Valerio l'ha preso in braccia mentre mia e Matteo si rinsero forti. Decisero per quel giorno che non avranno più ripreso l'argomento. Sonia era contrariato, ma fece di tutto per nasconderlo. Dopo pranzo andarono tutti al parco. Era un posto lontano dalla città in cui si poteva respirare aria pur e stare a contatto con la natura lussureggiante. I bambini avrebbero potuto distrarsi a giocare lì, oppure andare sulle giostre mentre gli adulti riempivano le bottiglie di acqua che scendeva dalla fonte sicura e cristallina. Mentre mia e Andrea passeggiavano, parlando dei loro preparativi, Sonia e Valeria rimasero seduto su una panchina. Amore, sapevamo che quella donna sarebbe tornata da Roberto. Ha voluto rifarsi una vita prima di poter assicurare a lei e alla sua creatura un'esistenza modesta. Sai che anch'io mi sono affezionato molto a lui, perché è un bambino speciale, un ometto, educato, comprensivo, diligente. Ma lui una mamma ce l'ha già. E magari da qualche parte c'è anche un padre che lo sta cercando. Chi siamo noi per ostacolarli? Tesoro, tu hai perfettamente ragione. L'affido non è poi così semplice. E Roberto è un bambino troppo sensibile e io non voglio in nessun modo che venga ferito, che vada in pezzo alla serenità che si è meritata conquistata. Io so che non sarei mai stata la sua mamma, perché lui, nonostante la credesse morta, ha sempre immaginato che nel mondo ci fosse qualcuno che prima o poi si sarebbe interessato a lui. Sapevo bene che non sarebbe passato troppo tempo. E il problema sarà come dirlo a Matteo. Domattina la incontro e vediamo cosa intende dire. Non ti faccio domanda, amore. Quando te la sentirai, sarai tu a darmi le risposte. Bosco di Gallapane, mondo o oltremondo. Cinque del mattino, buio, silenzio, pace e freddo. Inizio la lunga colazione che accompagna l'entrata nello stato di sveglia. Due boccali d'acqua, avvolto in una coperta e con in testa la calottina di lana grigia che portavo ieri durante il cammino. Ho sognato di fare politica. Strano, perché la politica e io siamo come il diavolo e l'acqua santa. Provo a decifrare il sogno, ma con calma. Oggi sarà una giornataccia. Spero di non dissipare in poche ore l'effetto antidepressivo della piccola avventura di ieri. Ho dormito perfettamente e mi sono alzato dal letto senza sforzo. Seconda fase, una mela a sette mandorle. Il mio impegno in politica nel sogno rappresenta forse la tragica illusione di riuscire a cambiare il mondo, che non è mai cambiato e non cambierà. Il potere e il successo economico sono i soli valori di riferimento. L'alta finanza regola il gioco. Il game di cui parla Alessandro Baricco nel suo libro. Con questo titolo non è affatto la rivoluzione digitale. Come vuol farci credere, ma più prosaicamente l'informatica al servizio della finanza. La massa di Elies Canetti non è che un greggio belante in cerca di quel po' di erba fresca che gli sarà concessa dal padrone. Ma sto divagando. Sono passato intanto alla terza fase. Pane nero tostato con miele e un bicchiere d'orzo fumante. Non chiedetemi se salutare, se sono gli alimenti giusti. Nella sequenza tutto ha un senso solo per me. Ieri sera, prima di addormentarmi, ero in fuga dalla realtà. Tolkien la chiamerebbe evasione. In un albero è foglia. La paragona a quella del prigioniero. Sì, perché nei panni della massa ben rimarginata io ci sto stretto. E tutte le volte che posso, senza venir meno ai doveri, che la vita mi ha procurato. E vado. Mi stacco dalla massa. Cerco di seguire solo me stesso. Sabato sera ci sono riuscito. Ho avuto un po' di tempo per riflettere. Sul cammino del giorno appresso intendo. È la volta dell'asila grande. Grazie a Marilise e a Giuseppina che hanno letto le nostre letture. Io volevo, ecco, abbiamo, ieri abbiamo panificato. Noi abbiamo aperto a dicembre del 2021. Il 12 dicembre abbiamo inaugurato il forno solidale di donne e diritti dove impassiamo umanità. Abbiamo portato oggi, come insegno di gratitudine per l'accoglienza che Cleto ci ha riservato, abbiamo portato il nostro pane. Questo pane poi verrà condito con la... non lo so dire, provo a dirlo, sbaglierò sicuramente. Ecco, lo dice il vice sindaco che è vicino a me che è di qua. La cialetta. La cialetta. Ecco qua. Quindi noi oggi doniamo simbolicamente insegno di amicizia e insegno di futura collaborazione perché prima visitando il castello abbiamo chiesto insieme a Marco e a Riccardo, al vice sindaco, se potevamo fare l'anno prossimo in prossimità del nostro premio letterario un'uscita del nostro premio qui a Cleto. Quindi presentare uno dei libri che porteremo al nostro premio qui e il vice sindaco ha accettato con entusiasmo, quindi faremo un'uscita in questo bellissimo castello, presenteremo uno o due libri che poi saranno con noi nella serata del 18 agosto 2023. Quindi in segno di gratitudine, di riconoscenza e di futura collaborazione, noi di San Giovanni in Fiore, dei Donne e Diritti, doniamo il nostro pane a Cleto, all'amministrazione comunale, al vice sindaco. Un gesto molto gradito perché, come ha detto la presidentessa che saluto, qui da noi la Cialetta è un piazzo tipico che tra l'altro girando lungo il lago per la Calabria ho notato che è una cosa che si fa solamente qui, quindi lo rivendichiamo anche con piacere. Stasera con il vostro pane che già dall'aspetto sono sicuro sia squisito, proveremo con il pane di San Giovanni in Fiore. Io ci tengo brevemente a ringraziare a nome dell'amministrazione comunale di Cleto e del sindaco, la vostra associazione, Riccardo, per l'iniziativa. Prima avete utilizzato un termine che mi è piaciuto tanto che è quello di invasione. In un periodo in cui siamo abituati da sentire tra giornali e tv di altri tipi di invasione, come ad esempio quello che c'è adesso nel territorio ucraino. Queste penso siano le invasioni di cui abbiamo estremamente bisogno. Ci tengo a darvi inoltre un caloroso benvenuto nel comune dei Due Castelli. Prima Riccardo lo spiegava bene. Siamo un paese che ha il grande piacere di poter rivendicare di avere Due Castelli che è un'unicità in Calabria. Nello specifico adesso siete a Savuto, rinominato anche come guardiano del fiume proprio per la sua peculiarità che è a ridosso del fiume Savuto. Speriamo di poterci rivedere in altre occasioni. Prima ho apprezzato molto la proposta che mi è stata fatta. Sicuramente riparliamone perché potrebbe essere un'ottima occasione. Vi lascio un in bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo. Io onestamente non conoscevo la vostra associazione. Prima di venire ho dato un'occhiata sui social, su Google, per capire di che tipo di associazione si trattasse, delle attività che svolgete. Vi devo fare un grosso applauso, un grosso complimento perché svolgete delle fantastiche attività e non dovete assolutamente fermarvi perché c'è bisogno nella società di questo contributo da parte della società civile e delle associazioni. Grazie. Grazie. Faremo un giro appunto per le vie del borgo e ci soffermeremo su Portaforgia dove faremo le altre due letture dei due libri vincitori del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore la cui seconda edizione si è tenuta ad agosto. In questo momento noi ci troviamo a Cleto perché prima siamo stati a Savuto, avete avuto la possibilità di visitare il castello di Savuto, come vi dicevo prima a Porta del Carro, noi invece vi trovate a Porta Pirillo. Qua c'erano quattro porte inizialmente, Pirillo perché aveva la forma di una pera, quindi questa qua che è Piazza Aldomoro in origine si chiamava Porta Pirillo perché aveva proprio la dimensione di una pera. Salendo alla mia sinistra si sale direttamente al castello. Per arrivare al castello ovviamente passeremo per dei palazzi, degli archi, ovviamente per arrivare al castello si può andare anche dalla parte opposta a destra dove troverete dei palazzi nobiliari, poi vi spiegherò. C'è anche la chiesa, insomma non vi voglio anticipare nulla, però vi dico che comunque partendo da qua una delle quattro porte perché rappresentavano i quattro fonti cardinali, c'era Porta Timpone, Porta Corgia, ci andiamo alla fine, Porta Pirillo e vi farò vedere com'è nata anche diciamo l'origine del toponimo Cleto perché Cleto in origine era Petra Mala. Quindi scoprirete la storia di Cleto che vi appartiene molto perché le donne sono forti, sono sempre siete forti, siete dell'antichità e hanno fondato addirittura una città. Quindi perché non diciamo fondare altre cose belle come state facendo come il forno solidale? Infatti noi vi ringraziamo perché prima avete fatto un gesto bellissimo che è quello di donare il pane all'amministrazione comunale che è un segno poi bene o male che riguarda anche Cleto, ci accomuna perché a Cleto si dona la cialetta che è un altro pane tipico di Cleto a forma di ciambella che si spezza, si taglia, si condisce con l'olio, con l'aglio e con l'origano, al cni col peperoncino, ovviamente l'olio tipico di Cleto. Poi vi spiegherò anche qualcosa pure sulle piante di olivo di Cleto, quindi ci accomunano tante cose e la cosa bella insomma quando si visita un posto è cercare di sposare la cultura altrui, quindi in questo momento stiamo condividendo. Abbiamo condiviso il gesto del pane che è un gesto anche simbolico dal punto di vista proprio religioso, spezzare il pane e condividerlo con le persone, quindi oggi stiamo condividendo un momento non solo di storia ma di amicizia prima di tutto. Quindi io vi ringrazio per essere qui oggi voi donne, donne e diritti insieme a noi che c'è sempre da imparare reciprocamente. Quindi adesso ci rimettiamo in cammino e saliamo verso Cleto o Cleta che dir si voglia, che vi appartiene oggi anche di più. Grazie. Allora Riccardo come tu prima ci hai spiegato dell'olio che è tipico di Cleto, noi da ormai da quasi otto mesi abbiamo avviato il laboratorio in cui facciamo il sapone con l'olio. Questo questa sera, Mirella che sapone è? Questa è la rosmarina e la malva. Abbiamo fatto malva e rosmarino, una per te e una per Riccardo, lo stiamo facendo anche alle fiche d'India, lo stiamo facendo alle ortiche, con l'olio. La procedura a freddo, quella per le saponette che stiamo dando anche nei B&B. Invece con il grasso del maiale, alla dicembre, facciamo il sapone di Mersiglia. Un classico, lo stiamo morendo una volta al grasso del maiale. Sì, proprio per ricordare quanto stiamo ripercorrendo le antiche tradizioni, quanto stiamo valorizzando, come stavi dicendo tu prima, i prodotti delle aree interne, perché San Giovanni in Fiore, come Cleto, sono due aree interne con tanti prodotti belli, con tanto lavoro bello, con tanta tradizione bella. Quindi noi stiamo scoprendo le nostre tradizioni, le dobbiamo valorizzare perché devono essere un punto di forza, anche per essere un volano, per restare in queste aree interne, per ripopolare i borghi. Io salendo ho visto tante case vuote, come il centro storico di San Giovanni in Fiore. Noi però stiamo cercando nel nostro piccolo di tamponare questa emorragia di persone che vanno via. Abbiamo preparato un progetto dove insomma gli emigrati che ormai non vengono più a San Giovanni in Fiore ci hanno prestato delle case e lì accoglieremo donne che vengono da lontano, donne che hanno subito violenza ed è un modo per restare in Calabria. Riabitiamo i luoghi interni, riabitiamo la nostra Calabria, facciamolo anche attraverso il recupero degli antichi mestieri. Il pane che abbiamo donato con tanto amore qui oggi a Cleto, il sapone, noi abbiamo anche i nostri laboratori, anzi invito già Marco e Riccardo a venire perché in questi giorni inaugureremo i nuovi laboratori della maglieria, uncinetto, ferri e ricamo perché finalmente ci ingrandiamo come centro antiviolenza e quindi continuiamo a credere nella nostra Calabria perché tutti insieme facendo gemellaggi, scambiando le nostre esperienze ce la possiamo fare. Noi speriamo di essere un modello, speriamo che ci emulano da qualche parte e che cominciano anche loro a seguirci, non solo le donne. Certo noi siamo un'associazione di donne, tutte di donne, dicono che abbiamo una marcia in più ma perché non è che abbiamo una marcia in più, noi abbiamo tante mani e tanta voglia di fare. Io lo dico sempre, noi siamo arrivati a questi livelli perché abbiamo tante donne che hanno messo da parte tutto per mettersi nell'associazione, mettere a disposizione il loro sapere, le loro tradizioni, tutto ciò che le nonne le hanno tramandato e soprattutto hanno messo cuore e le mani e la testa e soprattutto bisogna stare sempre unite, questo è il segreto perché in Calabria se non si è unito non si va avanti in quanto è subito pronto il pettegolezzo, è subito pronta l'invidia, invece no, ricuciamo i rapporti umani. Noi siamo nate durante il Covid quando tutto diceva di stare lontano, di stare disgregate, invece noi in quel momento abbiamo cominciato a ricucire il rapporto umano che è la cosa più bella. Lo abbiamo anche sperimentato sulla nostra pelle andando a Riace, noi siamo fans del modello Riace e stiamo nel nostro piccolo creando un modello e ci auguriamo che ci emulano da qualche parte. Allora a questo punto voglio dire pure una cosa, Stefania ha preso la parola al balzo per raccontare quello che fa l'attività donne e diritti che è un'attività bellissima, cioè soprattutto quella di unire le donne e non solo. C'è soltanto da imparare da persone come voi che decidono da un'esperienza negativa di fare qualcosa di positivo e produttivo, di creare dal nulla qualcosa che magari si sarebbe perso. Io penso quello che stavi dicendo tu adesso, ovvero che dal sapone, quindi dall'olio si riesce a creare il sapone ed è bello perché magari potremmo anche regalarvi dell'olio di Cleto e fare delle saponette con dell'olio di Cleto, questo sarebbe anche una bella iniziativa, sarebbe un gemellaggio tra le vostre mani e dei nostri proietti del territorio. Ma poi la cosa importante è questo, scambiare quello che stiamo facendo oggi significa anche ripopolare il borgo, fare conoscere il borgo, sperare che questo borgo, come anche San Giovanni in Fiore, possono diventare, non dico degli esperimenti perché è una parola brutta, però sicuramente dei modelli e dei punti di inizio, perché io sono sempre per la parola inizio, anche quando c'è una fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro. Quindi io essendo ottimista di natura, io sono contento di questa giornata, spero che ce ne saranno altre. Per chi mi trovo troppo bene con persone che sono ottimiste e hanno voglia di vivere, perché dobbiamo avere voglia di vivere perché la vita è veramente bella, dobbiamo semplicemente trovare il lato giusto per viverla e questo è uno dei lati positivi. Le persone se ne vanno, noi invece arriviamo, voi avete invaso Cleto per riportarla a nuova vita o per darci degli spunti riflessivi di quello che voi state facendo e che magari anche noi possiamo fare. Quindi collaboriamo, cerchiamo di essere uniti, perché non esiste questa divisione donne, uomini, bisogna imparare, che è la cosa principale. Quindi in questo caso, grazie a Donne e Diritti per questo dono bellissimo, io me lo prendo, ci tengo e davvero lancio io questa iniziativa. Voglio regalare, noi abbiamo poche piante di olivo a casa nostra, però se qualche quintale, olio, non lo so, questo lo sai tu, lui quello che sa, lo regaliamo perché vorrei delle saponette fatte dalle mani di Donne e Diritti, quindi mi piacerebbe questa cosa. Quindi grazie a Donne e Diritti. Allora, signore e signori, ci troviamo a Porta Forgia, sempre a Cleto. Vi dovreste già domandare perché Forgia, da Forgiaro, colui che insomma utilizzava il ferro per forgiare che cosa? I cavalli? No, gli asini, che prima ha nominato proprio Stefania, perché una volta qua si usava l'asino per portare le derrate oppure anche per spostarsi, anche perché era un piccolo borgo. Infatti, non so se voi notate, c'è una piccola incisione sul muro di questa casa che proprio ricorda il Forgiaro. Il Forgiaro era nominato anche il sellaio, perché poi c'era pure il sellaio che era colui che era identificato proprio per non solo lavorare le pelli, ma proprio per fare la sella degli asini, anche per rifare gli zoccoli, ecco da cui il Forgiaro. Ed è questa una piazza molto conosciuta, Porta Forgia, era una delle quattro porte che servivano appunto per difendere il paese dagli attacchi. Qui a Cleto ne abbiamo quattro, a Savut ne avevamo due e questo è stato utilizzato come location per presentare dei libri, per fare degli eventi di cinema sotto le stelle. È un posto molto bello, perché poi scendendo da questa stradina si va in un altro luogo molto bello che purtroppo per ragioni di tempo non abbiamo possibilità di visitare, che è la Fontana du Siccu. la Fontana du Siccu ha anche una cibia, tutti sanno che è una vasca diciamo di raccolta delle acque, dove si narra che ci fossero delle ninfe, delle muse che si facevano vedere soprattutto ai bambini o alle donne che erano incinta. E andando da quella parte ci sono anche delle grotte, dove ci sono dei culti sicuramente cattolici, si parla anche di monaci basiliani che comunque andavano in giro per questi borghi per fare apostolato. Un giorno se lo vorrete magari vi farò visitare più diffusamente questa zona. Però oggi siamo qua proprio per raccontare un po' di questo borgo che può sembrare un borgo che si è spopolato, voi l'avete visto, ci sono soltanto i gatti in giro per la zona e soltanto qualche persona che è ancora seguita ad abitarci ed è bello popolarli. Noi siamo per un turismo lento, itinerante, che magari come voi avete prima raccontato e l'ho raccontata Stefania, con piccoli gesti come quello non lo so del pane, che poi diventa un grande gesto, con il gesto del creare dei saponi, con degli aromi che riguardano il luogo, possono diciamo riportare alla vita questi luoghi che raccontano con il loro silenzio un po' lo spopolamento, un po' anche la pace e la calma, perché chi vuole può arrivare qui anche per fare una passeggiata in solitaria, perché ormai ci sono, oltre ai QR code, c'è la possibilità di conoscere il luogo chiedendo a chi vive questi luoghi. Noi infatti raccogliamo, io lo faccio anche nelle zone di Lamezia, raccolgo delle storie, raccolgo delle testimonianze, perché le testimonianze sono importanti. Quindi Cleto è di per sé una testimonianza vivente, come lo sono tanti altri borghi in Calabria, di quello che è la Calabria stessa. Quindi adesso leggeremo delle letture che sono stati vincitrici al festival della città di San Giovanni in Fiore, proprio il 18 agosto scorso, e che sono delle testimonianze proprio di luoghi, sono le testimonianze di persone. Quindi ci troviamo nel posto giusto per poter raccontare la storia attraverso la voce narrante di persone che leggeranno, donne e diritti, queste pagine, ma anche di chi ha deciso, come per esempio Francesco Bevilacqua, Vito Teti e altre persone che hanno deciso di raccontare i luoghi, perché tutti noi possiamo essere, come dice Francesco Bevilacqua, degli scopritori di luoghi, perché i luoghi ci appartengono, ci appartengono le persone, ci appartiene alla storia e ho sempre pensato che vada per i miti greci, vada per la storia romana, però noi abbiamo le nostre storie, dei nostri borghi, dei nostri luoghi che meritano di essere raccontati, di non essere perse soprattutto, e noi oggi con la giornata che abbiamo vissuto, col pomeriggio che abbiamo vissuto, abbiamo avuto la possibilità di incontrare voi, di farci scoprire e di scoprire attraverso di voi cose belle che nasceranno, infatti questa sera poi ci saranno, vi spoilerò nulla, ci saranno delle cose belle che verranno raccontate, perché da un piccolo seme può nascere una pianta, però è anche vero che il seme va alimentato, va curato, un po' come il grano, ce lo ricorda proprio donne e diritti, il grano è un elemento che ricorda la vita e la vita può essere ricordata proprio attraverso il pane, quindi quale simbolo più bello dello scambio e del dono del pane che ci è stato fatto oggi, quindi noi vi ringraziamo nuovamente perché concludiamo qui questa nostra passeggiata, poi ci sarà il party a casa nostra, ma di certo noi vi ringraziamo per essere stati presenti oggi, per averci dato la possibilità di raccontarci, di incontrarvi e continuare soprattutto a fare questo piccolo esercizo quotidiano che è quello dell'incontrarsi continuamente, di scambiare le nostre esperienze, perché sicuramente donne e diritti, ma io soprattutto dico, vedi, la parola diritti è importante perché i diritti alle volte ci vengono portati via se noi non siamo vigili, non siamo attenti, quindi dobbiamo cercare di non farci portare via anche le tradizioni che abbiamo, perché l'Italia è piena di tradizioni, Cleto è piena di tradizioni, San Giovanni è piena di tradizioni, mi dicono di tagliare perché ovviamente Marco ha i tempi che deve rispettare, io sono logorroico, quindi vi ringrazio donne e diritti da Cleto, Riccardo vi saluta e soprattutto vi dice venite nuovamente a Cleto perché c'è tanto altro da vedere, noi abbiamo fatto proprio un riassunto. Grazie ancora e ci vediamo pomoglio di San Giovanni in fiore la prossima volta, ok? Grazie a Riccardo, ecco qui ho una piantina di finocchio che abbiamo raccolto lungo le scale del castello, con questo finocchio e con altre erbe che abbiamo preso qui insieme a Mirella e le altre associate faremo il sapone, perché noi appunto cerchiamo di valorizzare tutto ciò che è nostro, che ci appartiene alla nostra cultura. Mi è piaciuto tantissimo ciò che ha detto Riccardo che noi abbiamo presentato quest'anno dei libri che raccontano luoghi e persone che sono della Calabria. Ha vinto infatti il nostro premio letterario, ha vinto il nostro premio letterario Vito Teti ed è stato molto bello per noi salendo le scale trovare qui un'insegna in Italia dove c'è scritta proprio una frase di Vito e secondo posto è arrivato Pietro Criaco, un'idea che ci univa, che racconta anche di un'aria interna, di Africo, delle lotte, delle battaglie per poter restare in Calabria, per avere servizi, servizi sanitari e servizi sociali. Questo è stato il finone di quest'anno, la restanza, poter vivere nella terra dove siamo nati perché ne abbiamo diritto, ne abbiamo diritto tutti e i nostri diritti, come diceva Riccardo, devono essere portati avanti, devono essere tutelati, dobbiamo essere vigili a non farli rubare perché siamo nati in Calabria, abbiamo il diritto di restare ad abitare in Calabria e avere gli stessi diritti dei cittadini del nord. Io lo dico sempre, siamo tutti di calabresi, cittadini di serie A, lo dico quando noi facciamo le nostre battaglie per la riqualificazione della sanità a San Giovanni in Fiore ma anche in Calabria. Vi saluto, vi ringrazio nuovamente Marco e Riccardo, vi aspettiamo a San Giovanni in Fiore e vi salutiamo con le letture dei libri, ci sarà Mirella Marasco che leggerà un'idea che ci univa di Pietro Criaco e Raffaella Sibbio, Vito Teti, la restanza. E allora, forza tutti, uniamoci, facciamo rete, tutti noi operatori culturali e operatori sociali perché possiamo finalmente riabitare la nostra bella Calabria. I nativi di Africo non sono gente comune, vengono dalla montagna e quindi odiano il mare perché non è il loro ambiente naturale. Ci devono convivere, punto. Non amano i pesci, sono allergici alla salsedine e si portano addosso l'invadente odore di capra. Trapiantati in marina dopo una nuvione terrificante che aveva distrutto il vecchio paese su in Aspromonte e costretti ad abitare in case costruite in fretta e furia, scontenti del cambio di direzione della loro vita, ma soprattutto per mancanza di identità precisa, sono sempre in lotta, sempre in prima fila. Sulla piazza principale si erge una chiesa a forma di parallelepipedo che sembra spuntata fuori dal cilindro di uno stregone pazzo. Il manto stradale è regolare, le abitudini sono state costruite senza nessun criterio e le ditte a patrici hanno speculato usando materiale scadente. I governanti locali non hanno vigilato abbastanza o forse hanno permesso certi appalti a ditte amiche per lucrare indisturbati. A ridosso della provinciale le poche case sono la meta abituale di venditori di pentole, macchine da cucire, sapone, polli e conigli. Tutti gli anni, all'inizio della primavera, gruppi di zingari arrivavano con i loro articoli, appena forgiati, palette di rame, piatti, tazze di alluminio e altre cianfrusaglie. Alcuni di loro sono specializzati nell'affilatura dei coltelli e delle forbici. Tre, quattro volte all'anno arriva un furgone bianco che ormai tutti conoscono. Trasporta bicchieri, boccali, piatti, tutti di plastica nei vari colori, giallo, rosse o blu. I proprietari sono un uomo e una donna che scambiano le gioche dei capelli delle donne del paese con le loro mercanzie. Una giocca piccola in cambio di una tazza. Una giocca grossa può essere barattata anche con un set di bicchieri piccoli, con la relativa guantiera. Si diceva che i capelli servivano loro nella costruzione di bambole per i bambini. Il personaggio più curioso era un tipo che arrivava la prima domenica del mese con il treno delle sette. Lo accompagnava la moglie che indossava di solito lo stesso vestito rosso con frazzetti bianchi e azzurri. Giungeva in paese sudato e ansalante, trascinando una grossa valigia piena di scarpe. Ogni volta si fermava ad aprirla. La gente accorreva a frotte, sorridendo e festosa. Ogni volta che l'uomo tirava fuori la sua merce, gli occhi dei presenti trasecolavano tanta ed era la meraviglia. Potevano osservare scarpe di tutte le misure, per un uomo, per donna e per bambini. L'uomo le alzava in alto come se fossero dei trofei e reclamava ad alta voce le lodi per la qualità e la robustezza delle sue calzature. Scarpe nere per uomini forti, scarpine nere per donne belle. Volevo ringraziare da parte di Donne Diritti la Travel Perri che ci ha accompagnati in questo bellissimo viaggio. In particolare nella persona di Pasquale. Grazie mille. Come diceva la Presidente prima, durante il premio letterario, la seconda edizione del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore, il primo posto è stato vinto da Vito Teti, il suo libro La Restanza. Venne leggero giusto due foglietti. Capitolo dodicesimo. Tra la terra e il sangue, rovine, memoria, morti. Cosa resterà di tutti gli anni della nostra vita, dei nostri amori e dei nostri dolori? Cosa resterà dei luoghi abbandonati e di quelli pieni di uomini operosi, della polvere e delle pietre, del nostro infinito viaggiare? Cosa mi resta delle notti passate a vegliare e a curare mio padre e mia madre? Del tempo intermedabile delle fughe, delle riunioni, degli incontri? Cosa resterà di quelle casette che avevo visto piene di vita e sui cui muri oggi nascono le erbacce? E dei miei mille e mille paesani da cui ho avuto almeno un sorriso o uno sguardo? Cosa resterà quando non ci sarò più per ricordare e per avere nostalgia? Cosa resta di ieri per l'oggi e dell'oggi per un auspicabile domani? Cosa resta di noi? In un suo intervento al Salone del Libro, nel 2017, Giorgio Allenberg ricorda che Anna Arendt, all'intervistatore che le chiedeva che cosa restasse per lei della Germania, in cui era nata e cresciuta, lei rispose, resta la lingua. Ma, dice ancora Hagenberg, il rischio di una lingua che sopravviva al mondo di cui era espressione sembra essere quello di non avere più nulla da dire. Forse, dice il filosofo, resta la lingua come poesia, che è anche, io credo, la lingua della filosofia, ha a che fare con ciò che nella lingua non dice ma chiama, cioè con il nome. La poesia e il pensiero attraversano la lingua in direzione del nome, di che l'elemento della lingua che non riscorre e non informa, che non dice qualcosa di qualcosa, ma nomina e chiama. La lingua, la vita, si salvano nelle macerie, quando si rispecchiano in e al contempo rispecchiano ciò che è perduto, continua Hagenberg. Tanto nella vita individuale che in quella collettiva, la massa delle cose che si perdono, lo scialo degli infimi, impercettibili eventi che ogni giorno dimentichiamo, è così sterminato che nessun archivio e nessuna memoria potrebbero contenerli. Quello che resta, quella parte della lingua e della vita che salviamo dalla rovina, ha senso solo se ha intimamente a che fare col perduto, se sta in qualche modo per esso, se lo chiama per nome e risponde in suo nome. La lingua della poesia, la lingua che resta, cioè cara e preziosa, perché chiama ciò che si perde, perché ciò che si perde è di Dio. La mia idea della restanza coniuga, in un'addizione semantica e allegorica, una dimensione fisica e un tempo vissuto, interiore, un modo di concepire un passato che sorregge il presente, ma che dal presente è sempre sorretto. La restanza come nostalgia del presente, per non cedere all'impostatura del futuro a perdere. Difficile fissare punti d'approdo per il dubbio umanissimo sul senso ultimo dell'occuparsi di quel che resta, dello scrutare frammenti del tempo dell'amprocene, in un mondo che muta velocemente e che sembra correre verso il suo collasso. Osservare gli scarti del tempo, mentre il nostro universo copernicano implode, è una scelta di retroguardia. Questa domanda, soprattutto dopo la pandemia, ha acquisito un senso di ultimità. Noi, stanca gerarchia creaturale caduta nel tempo, forse non abbiamo più tempo, forse lo abbiamo sprecato nell'arroganza antropocentrica di chi potè che il futuro. In questa prospettiva, quel che resta ci parla del qui e dell'ora, ancor più che del passato, e sembra modulare il canto del cotil de mori per conquistare discreti temporali e guisa ed eterno che dura. Su quei temi, mi ha fatto molto riflettere Demetrio Paulin, in una lettera che mi ha inviato qualche tempo fa. Cosa resta del verbo restare? È un rimanere dopo l'essere arrivati, è qualcosa che non riguarda ciò che è stato, ma ciò che sarà, quindi non tanto il passato, ma il futuro. Resta ciò che sopravviva al passato, al passaggio, e ciò che sopravviva al passato e futuro. Restare, quindi, non è statica come azione, ma dinamica, concristallizza il presente, ma si permea di futuro. La dialettica triadica delle rovine, delle memorie e dei morti costruisce la dimensione valoriale di quel che resta della poesia detritica di un universo franante. Grazie. Allora, ci siamo, siamo quasi a, anzi, siamo alla fine di questa manifestazione, adesso non ci resta che andare a fare un po' di festa a casa mia e di Riccardo, c'è un bel rinfresco che vi aspetta. Io vorrei che faceste un applauso ad Abruzzese, perché oggi ci ha accompagnato, a me dispiace un po', perché ha un impegno e purtroppo deve andare via e non ci può, diciamo, non può restare, ci deve salutare. Grazie per il tuo servizio, grazie a Liberi TV, a una comunicazione di servizio. Allora, naturalmente, voi che siete col Pullman, seguite me, quindi vi indico io dove parcheggiare. Per quelli di Cleto, che conoscono benissimo dove è casa mia, potete parcheggiare possibilmente sul lato sinistro della strada. se andate scomodi a scendere, vi girate dove è a Casipasquale e andate più comodi a scendere. Voi seguite me pure, seguite me e il Pullman, perché voi giustamente non siete di Cleto. Allora, andiamo a fare festa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.